Sto tagliando l'erba e invidio tutti quelli che sono in vacanza, ma quelli che sono in vacanza invidieranno me a settembre. Ciao a tutti, let's face, Radio Kiss Kiss, siete fantastici. Ma Kiss Kiss a te cara, ma in realtà ha ragione, io sono una viaggiatrice di settembre da praticamente tutta quanta una vita. Non è tanto una questione di invidia, è che l'estate, nessuno se lo ricorda, dura fino a settembre inoltrato. C'è la musica più bella da accompagnarci, il P, questa è Shaken. Radio Kiss Kiss La musica è experiência, la musica più bella da accompagnarci, il